Levatevi da mezzo perché sta arrivando il leone, il capo indiscusso dello zodiaco, perché devono essere amati, rispettati e ammirati, generosi, calorosi, autorevoli, esigenti e talvolta anche intransigenti. Stiamo parlando del signor leone. Prima di continuare con il video iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettetemi un like al video che non vi fa male insomma cliccare, attivate la campanella per essere aggiornati su tutte le uscite dei nuovi video sul canale e seguitemi anche su Instagram che il social che aggiorno quotidianamente dove lì magari possiamo avere anche degli scambi, possiamo anche parlare. Siamo arrivati al segno del leone ragazzi, innanzitutto ciao perché prima non penso di aver salutato. Il leone è un segno un po' particolare però è un leone quindi è tosto, è il capo di tutti, è lui che comanda nello zodiaco. Le date del segno zodiacale del leone vanno dal 23 luglio al 23 agosto mi pare, è audace, ha un atteggiamento coraggioso e una vita avventurosa. Il sole è il pianeta che domina il leone e questo pianeta che poi è una stella. Il sole gli conferisce determinazione e tanta energia. I punti di forza del leone sono la gentilezza e l'essere organizzato. I difetti invece sono orgoglio e atteggiamento autoritario. Le gemme associate al leone sono il topazio e il diamante. Il pianeta appunto che domina è sole che è una stella, io continuo a dire sempre così, lo dirò a vita come la luna è un satellite. L'elemento del leone è fuoco, i colori sono il giallo e l'arancione e il metallo è l'oro. Il leone per essere in pace con se stesso e quindi essere felice deve sentirsi utile e importante per le altre persone. Il leone ama essere lì per gli amici e familiari e dare consigli quando si hanno dei momenti difficili da superare. Ama sognare in grande e fare cose incredibili. Ama avere attenzioni e soprattutto avere gli occhi della gente addosso. Quindi essere ammirato perché nasce leader e gli viene anche naturale. Vedono una vita come un'esibizione motivo per cui danno sempre il massimo a tutti e a tutto. E ovunque va un leone c'è una folla che lo segue dietro. Dà molta importanza ai suoi bisogni e li mettono davanti al bisogno degli altri e fanno bene. Amano essere circondati da amici che apprezzano la loro generosità e la loro realtà. Il leone è la vita e l'anima di una festa e porta a calore ovunque vada. Vediamo i tratti positivi del leone. È ottimista, gentile e onesto. I tratti negativi invece sono arroganza, inflessibilità, pigrizia, l'essere orgogliosi e prepotenti. Se un leone diventa ossessionato dai propri successi, il successo gli dà alla testa. Essendo il re della giungla e quindi molto testardo, fargli cambiare idea sarà una cosa veramente difficile. Gli uomini leone sono molto orgogliosi, leali e ambiziosi. Sono dei grandi leader ed hanno un lato veramente affettuoso e simpatico. Il leone donna è affettuoso, caloroso e allegro, ma può anche essere esigente, egoista e tanto impaziente. Il leone è il segno zodiacale più geloso tra tutti i segni dello zodiaco. E quando si innamora può diventare possessivo ed ha bisogno di tempo per potersi fidare. Il leone è molto compatibile con il sagittario e la bilancia, poiché hanno gli stessi obiettivi di vita. Mentre la coppia leone e leone, per quanto possa essere passionale e focosa, saranno continuamente a lottare per chi deve essere il leader, insomma, tra i due. Gli scontri saranno inevitabili. Per quanto riguarda il leone è tutto, fatemi sapere nei commenti chi di voi è il leone, se vi ritrovate in questa descrizione. Spero che questo video vi sia utile e che vi abbia tenuto un po' di compagnia. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!